Ehi, cosa stai facendo? Sto buttando la spezzatura? Ma questo è il bidone del secco? Tu hai della plastica lì, vero? Sì, e allora che differenza c'è? Ma come che differenza c'è? E allora secondo te perché esiste la raccolta differenziata? Boh, cosa ne so, non farmi perdere tempo, dai! No, 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 ehi, ehi! Aspetta, immagina che tu fossi un pezzo di plastica in quel sacchetto E che nel bidone ci fossero tutti i tuoi amici pronti per un nuovo bellissimo viaggio Ti piacerebbe essere buttata nel bidone del secco Dove è pieno di depravati che fra l'altro ti stanno anche sulle palle E dove verresti abbandonati in qualche parte del mondo a decomporti per migliaia di anni Mentre i tuoi amici invece sono lì a divertirsi in una nuova bellissima vita Ti piacerebbe? Ehm, no! Bene, allora, e buttalo nel bidone della plastica Vai, vai! Grazie! Ciao Grazie Grazie Grazie.